Musica Cari amici di Fano TV ben trovati, terzo ed ultimo appuntamento in studio dedicato a Passaggi Festival dal 21 al 25 giugno siamo questa sera in compagnia del direttore artistico Giovanni Belfiori, buonasera Buonasera e grazie dell'attenzione che Fano TV dedica ogni anno al festival, davvero preziosa e importante Beh, diciamo che il festival all'attenzione se la prende già da sé, se solo pensiamo ai numeri per esempio, se vogliamo partire da quelli quando si dice diamo i numeri qui si danno dei numeri veramente importanti Sì, adesso io dovrei ricordarmeli tutti a memoria, forse qualcosa è sbaglio, ma diciamo che ci siamo Abbiamo oltre, comprese le mostre, oltre 130 eventi in 5 giorni di festival, dal 21 al 25 Saranno presentati 91 libri in questi 5 giorni, con circa 180 ospiti Quindi parliamo davvero di un periodo, di una rassegna intensa, perché ogni giorno ci sono più o meno 20 appuntamenti Insomma, tenendo conto che abbiamo anche il mare come offerta turistica, credo che sia un festival che valga la pena visitare anche a chi non è di Fano Tra mare e città, tanti gli appuntamenti, quest'anno tra l'altro le novità ce ne sono state, ce ne saranno, insomma, tante La novità più curiosa che abbiamo in serbo è appunto quella di un'intervista davvero importante e originale Avremo Gigliola Cinquetti che converserà con Nando dalla Chiesa sul suo libro, sul libro di Nando La legalità è un sentimento pubblicato da Bonpiani, quindi insomma è una coppia inedita sul palco Gigliola Cinquetti è una grandissima cantante con il professore dalla Chiesa Uno dei più stimati sociologi che abbiamo in Italia Ma poi ci sono anche altre novità, io penso per esempio anche a una piccola rassegna Come quella che dedichiamo alla narrativa, che è una eccezione nel festival Che è dedicato essenzialmente alla saggistica Ecco, nella rassegna che dedichiamo alla narrativa ci sono tre grandi scrittori albanesi Bas Kim Sheo, Arthur Nurai e soprattutto c'è una donna, Elvira Dones Che è una grande scrittrice internazionale, lei ha pubblicato alcuni anni fa Vergine Giurata Che poi è diventato un best seller in tutto il mondo, anche un film di successo Quindi ci sono queste cose, penso un'altra novità di quest'anno La rassegna sull'economia con grandissimi nomi Stefano Zamagni, Mariangela Pira, Vincenzo Visco, Salvatore Rossi, Francesco Vecchi Quindi davvero abbiamo cercato di fare un festival che fosse completo A volte ci rendiamo conto che ci vorrebbero più luoghi, ci vorrebbero più giorni a volte Poi ovviamente dobbiamo fare i conti con le risorse e con l'organizzazione Però è un grande festival con tanti appuntamenti per tutti i gusti e per tutti gli interessi, davvero Giovanni, quanto è difficile la scelta degli ospiti? Se poi difficile si può definire, giusto dire così, insomma? No, no, l'hai definita bene, è difficile perché su 5 o 600 proposte che ci arrivano a volte anche di più Noi dobbiamo selezionare un centinaio di titoli Quindi per forza, la selezione è sempre dolorosa perché sono titoli interessanti Anche se l'autore o l'autrice non è nota, non è famosa Ma ti trovi a che fare con dei libri che meritano grande attenzione Penso anche a delle rassegne più piccole Penso a quella del bonbon che noi facciamo ogni mattina alle 9 e mezza Davvero per lettori appassionati Ma lì ci sono dei libri straordinari Leggevo qualche giorno fa il libro sul dolce Il dolce dal punto di vista filosofico che andremo a presentare appunto al bonbon Ecco, se ne ho citato uno Sono tanti libri curiosi, interessanti e belli che meritano attenzione Quindi sì, è difficile fare la selezione Quest'anno il tema è la vertigine dei libri Quindi insomma, la vertigine già Sì, la vertigine è un'emozione forte Quando ti prende la vertigine non stai più in equilibrio Ne sei attratto ma ne vuoi anche fuggire Perché quello è l'effetto del libro Guarda, eravamo partiti da un altro tema Perché eravamo partiti dal libro che dà certezza Proprio il contrario Esattamente Poi ragionando abbiamo detto Ma in fondo il libro non dà certezze Il libro dà vertigine Anche quando è un saggio con dei numeri Con delle statistiche Con un racconto preciso di fatti Ma tu ti chiedi sempre Ma è vero? Voglio fare una verifica? Voglio andare a vedere se è così? Oppure mi leggo un altro saggio che dice il contrario? Quindi anche quando uno ha l'apparenza della verità assoluta Quella verità assoluta c'è sempre qualcuno che la metterà in discussione Quindi il libro è vertigine E io invito tutti a venire a Passaggi Festival tutti i giorni Ma nell'ultima giornata Quella di domenica 25 giugno Perché ci sarà la lezione magistralis Quello che noi chiamiamo il discorso notturno Di Marino Sinibaldi Proprio dedicato al tema Chiedi alla vertigine Beh, è estremamente interessante Perché tutto sommato un libro non deve fornire certezze Se posso permettermi Perché comunque una vertigine ti rompe tutti gli equilibri E Passaggi, a mio avviso, spezza i normali equilibri del sapere Perché c'è il sapere in toto Alla portata di tutti Perché insomma dai temi di attualità Dalla guerra in Ucraina Si spazia allo sport per arrivare all'amore Però alla portata di tutti Dai più piccoli Cioè dal lettore medio Al lettore insomma più istruito forse Assolutamente Noi abbiamo delle rassegne specialistiche Che sono quelle di economia Sull'intelligenza artificiale L'arte, la scienza, la filosofia e così via Ma cerchiamo sempre di avere un approccio Anche se si tratta di rassegne tematiche Un approccio non accademico Perché noi ci rendiamo conto che Tutti quanti possono e debbono poter capire bene Di che cosa si parla Io non capisco assolutamente nulla di scienza Ma spesso vado ad ascoltare Le presentazioni liberali di scienza Perché so bene Che sono fatti in modo tale Che anche io Che non so nulla di scienza Riuscirò a capire e a comprendere Di cosa si parla Quindi hai perfettamente ragione In apertura di questo approfondimento Hai detto che forse sarebbero serviti più giorni E anche più spazi Però Fano offre insomma Il suo bel parterre Tra città, tra centro storico e mare Quindi sono stati utilizzati al meglio Tutti gli angoli migliori Se angoli si possono definire Della nostra città Sì, noi abbiamo cercato di utilizzare Tutto ciò che era disponibile E che era anche alla nostra portata Non abbiamo ovviamente risorse infinite Quindi in piazza ci saranno i grandi autori I nomi più noti Al Pincio ci sarà la rassegna Sempre con nomi importanti Penso a Malika Yanma Tanti altri Paolo Borzacchiello Paolo Stelle Sabina Guzzanti Non li voglio dire tutti Sono iniziato un elenco lunghissimo È dedicato forse a una platea un po' più giovane La parte della chiesa di San Francesco Avremo due mini festival Quello delle graphic novel e quello di poesia Più la rassegna di saggistica alle 19 E poi nella mediateca avremo i bambini Laboratori, libri Ma avremo anche due rassegne Quella sull'intelligenza artificiale E quella della narrativa Lì accanto al chiostro delle Benedettine Ci saranno le rassegne quelle tematiche Quindi arte, scienza, filosofia eccetera Economia e così via Poi al mare ci sarà una rassegna Che si lega un po' a quello che c'è al pincio Perché lo stesso saranno libri Tra music e social più o meno Al bonbon ci sarà la rassegna Delle nove e mezza del mattino Dedicata alla saggistica A luce l'imbel verde I calici di scienza Quindi io penso di aver detto più o meno tutto Insomma sì abbiamo occupato Buona parte degli spazi Non tutti Ma sono degli spazi disponibili In centro storico In mare e al mare Quindi mi confermi che Con il passare degli anni E il cambiamento anche dei palinsesti Proprio di passaggi È cambiato E si è modificato anche il target Insomma del pubblico Sì noi cerchiamo di prendere Sempre un pubblico Come dire Da 0 a 99 anni O anche 100 Perché siamo convinti Un po' quello che dicevi prima Che il libro deve essere Alla portata di tutti Quindi abbiamo spazi Per le famiglie Per i bambini Per gli adolescenti Per i trentenni Per un pubblico più maturo Anche spazi Per chi semplicemente Pensiamo alla libreria Che metteremo su In centro storico Vicino al Sant'Arcangelo Anche spazi Per chi semplicemente Si vuole fare un giro In quella libreria O neanche nelle librerie di Fano Perché Fano ha comunque Tanti punti Vente di libri E librerie interessanti Ecco Anche quello è una Buona azione Un'azione interessante Farsi in giro in libreria Guardare che titoli ci sono E poi magari Il pomeriggio o la sera Venire al festival E assistere alle presentazioni Posso farti una domanda personale? Certo C'è un appuntamento Che ti sta particolarmente a cuore E come consiglieresti Ai nostri amici a casa? Beh Io posso essere egoista Sì Una volta nella vita Ci è concesso Penso A tutti quanti C'è un piccolo libro Che però è di un grande autore Un grande autore Che tra l'altro Ha sofferto Il regime Di Enverogia In Albania E il libro che presenterò Insieme alla giornalista Benedetta Iacomucci Lo presenteremo sabato 24 giugno Alle ore 22 alla Memo È il libro di Baschim Sheo L'incrocio e l'abisso È un libro di un autore albanese Che ancora una volta Si concentra Su ciò che vuol dire Il regime La detenzione La chiusura Il carcere La mancanza di libertà Il desiderio di libertà È un libricino piccolo Che io ho letto facilmente Si legge in un paio di giorni Che ti lascia il segno Ti colpisce dentro Assolutamente Ti colpisce dentro Bene Dobbiamo ricordare altro Ci sfugge qualcosa È tutto gratuito È tutto gratuito Questo mi piace sottolinearlo Perché è giusto Che il pubblico sappia Poi ci sono degli appuntamenti Che bisogna prenotare Però Bisogna prenotare i laboratori E la masterclass gratuita Che saranno in Mediateca E a Torrette Però è tutto gratuito Tranne le due visite guidate Che faremo Una prima del festival Il 18 giugno L'altra il 25 Quindi l'ultimo giorno Perché lì c'è un gettone Da dare ovviamente Alla guida turistica Che condurrà gli ospiti Alla scoperta di Fano E di Montegiove C'è un lavoro di backstage Notevole E quindi i ringraziamenti Credo siano doverosi Sentiti e partecipati Assolutamente Sì C'è un lavoro di backstage Intenso Che inizia a settembre Di ogni anno Per concludersi appunto A giugno Con la conclusione del festival È un lavoro intenso Che coinvolge decine di persone A cui va È un grazie incredibile Come va un grazie Devo dirlo Agli sponsor privati Che ci sostengono Come va un grazie All'amministrazione comunale Di Fano E alla Regione Marche Alla Camera di Commercio Delle Marche Alla Fondazione Ad Asi Ci sono tanti Sia sponsor privati Che società pubbliche Che ci danno una mano Quindi un grazie a tutti Ai volontari E a chi permette La realizzazione del festival Grazie a te Che sei Come si dice Il deus ex machina E questa volta Il compito di invitare I nostri amici È tutto tuo Lo faccio volentieri Venite a Passaggi Festival Dal 21 al 25 giugno Perché vi divertirete Con la cultura Vi divertirete con i libri E passerete Pomeriggi Mattine anzi Pomeriggi e serate Interessanti Pacevoli Anche in compagnia Di grandi autori Grazie allora Giovanni Belfiori Grazie a voi Grazie a te Grazie a Riccardo Sari In regia E a tutti voi Dell'attenzione Non perdetevi i passaggi Ciao Buongiorno 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 Buongiorno